POSSO CHIEDERLE Dobbiamo raccogliere 14 milioni di dollari per salvarci dalla demolizione Ed è qui che entra in gioco il nostro amico Norman Oppenheimer Lei conosce Norman Oppenheimer? No, veramente no Onorevole, ma che piacere Il signor Taub le vorrebbe parlare, posso accompagnarla? È stato a casa di Arthur Taub Sì Questa è la mia abitazione privata, non può entrare così e sedersi alla mia tavola Glielo presento prima o poi, lei sa chi è, vero? Non ho tempo da perdere Sì, sì, ma Joe ha sempre urgenza Ci ha parlato? Non riesco a seguirla, Norman, ci ha parlato o no? Perché non ha risposto alle mie chiamate? Perché ho l'impressione che niente di quello che mi dice sia vero Diciamo così, si prepari a una grande sorpresa Lei è come un uomo che sta negando che fa segno a un transatlantico Sono un buon nuotatore Sì Non lo dimentichi Succederà qualcosa di bello, mi creda